Musica Ben troppo a tutti, un'altra puntata dei Genti delle Ghe. Ben troppo a tutti, un'altra puntata dei Ghe, un'altra puntata dei Ghe, un'altra puntata dei Ghe. Ben troppo a tutti, 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 un'altra puntata dei Ghe. Ben troppo a tutti. Ben troppo a tutti, un'altra puntata dei Ghe. Ben troppo a tutti, un'altra puntata dei Ghe. Ben troppo a tutti, un'altra puntata dei Ghe. con Savisava? La che eravano c'Antonio e la Pantera e fevano la nasa a Via Cavour. Io ho dei partiti, ma che stava a Teraile, fevano la nasa e io ammiravo tambi. Tammara trabagliava in casa e si avvisava? E Antonietta, la casalinga era. Bella scena, Antoni e Antonietta, no? Allora fevano una festa tutti tutti insieme a Sant'Antonio. Ecco Paolo, mi rimane a che c'è un gran passaggio attualmente che Paolo manca, sa di Valtese tambi, a che c'è un strabalzo, che ora miraremo. Paolo, mi rimane a che c'è un strabalzo. Ecco, siamo anche qui, mi rimane a che c'è un calcio che fa Paolo e si cominciamo a che c'è un grande, a che c'è un grande, a che c'è un grande, a che c'è Paolo, l'aspetta tu? Sì, sì, a che c'è un effetto, io da zero. Scommenzate della chiglia, sa scomenza sempre della chiglia, da spesso fanno le ordinarie, solo le maderas. La grande, la reale, sa fanno una bursia, però essendo un modellino a che c'è, sa fanno tutte le bursie, su un full, da spesso le burie, sa smucia, per cosa le ordinarie, tenne un'angurazione, se dà, onde si appoggia lo facciamo. E da spesso la bursaria, sa vio, lo facciamo quando si appoggia la monta. E' compresa, e quindi è tutto che c'è a parte, che c'è così? Beh, è un traballo un po' curioso, per cosa, da spesso, da spesso, da spesso, da spesso, da spesso, insomma, è un traballo un po' curioso, no? Andiamo avanti, allora, intanto, l'occhietta rimane alta, anche invece, una cosetta curiosa, che c'è, cosa c'è? Akesh è un gusto genuvese, akesh è un modello già pronto, un gusto, un gusto, un gusto. E' voluto armare, fitturare, e adesso è pronta, akesh, è bella, fatta. Allora, andiamo avanti, torniamo a Balca Nostra, e non ci siamo, ecco, non ci, ecco, akesh è facile, cosa c'è akesh? Akesh è un timo, da regala, akesh è da regala, a te la pala Iunga. Devo dire, del modo che, quando gli egli va a navigazione, non si può inclinare, compresa. Da spesi il sole, la città di pesca, invece, tenono la parame sculta, quadra. Ad abbasci. Sì, sì, perché una volta, akesh è a barca, escivano dai porti, tutti a prendere la nasa. I pascheroni imparavano la nasa, e i vallieva solo la nasa, è uscita dai porti, l'uomo non vallieva a bordo. E' compresa. Allora, anche i tani, i tani, un salvaggente, come si chiama? Akesh è un anello di tenda, rivestito. Modellino, per esempio, un salvaggente, akesh è, da spesi va tutto a cabala, ma la cima, come un real salvaggente. E' un dotazione di che c'è il banchetto. E' compresa. E' compresa. Real, compresa. E' compresa. Akesh è sempre la mate, c'è un salvaggente rivestito, però il branco, per fare allestimento di che c'è il banchetto. Sì. Anche i tani, una, 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 una grande che c'è. Ecco. E' la mate, la mate, la tecnica di che c'è a spettita. Di che c'è a spettita. L'eco tani, ma non qui, Paolo, che pezzo è qui? Fai lo via, fai lo via, che pezzo è qui. Allora, qui si va a posata, antes la spigò, anche. Ecco, anche i vant. Va a ottenere l'usuzio di cubia, che in realtà non è l'usuzio di cubia, però la cura nasce l'usuzio di cubia. Anche l'anche va a infilare la spigò. Anche l'Italia si è di un buon prezzo. A buon prezzo. Sì, a buon prezzo. Allora, io c'è un buon prezzo. Della navegazione, c'è una barca a vera, che c'è una barca di guccio di regara. A che c'è un guccio di regara. E c'è la spagnoletta, la tipica barca di regara. E questa cosa, dell'angolazione, se a che c'è la posa, ha detto la maniera, è stata messa da monte. E' compresa, è compresa. Ascolta, Lupe No, hai visto un altro pezzo, eccolo, 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 a che c'è cosa si arriva? E' la barca di timo. Ah, ecco, 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 che va a nanchi. Sì, a che c'è la posata nanchi. Sì, sì, eccolo, eccolo, eccolo. La barca di timo. Sì. E' compresa. E' compresa, è compresa. E' la cosa che c'è del timo, posiamo tutto nanchi. E le gottano, ma lo vengono, perché c'è un guccio, no? Sì, a spagnoletta, eccolo. A spagnoletta, a spagnoletta. Che vengono nanchi, teniamo anche, perché anche andava il motor, lo motor andava anche. Beh, quanti una volta era a Rims, lo motor non è via, allora era senza motori, si arremava, o no? O se andava vera, però da spesso si uscite anche le motori, un cilindro, due cilindri, quattro cilindri, e si considera di tipo di barca. E poi ci sono diversi tipi di stazza, delle barca. Le cose che gli ammaleriche, hanno la poppa messo un po' a strinire, e la prua è un po' a pacciuccia. E' un sacco di tipo di barca, sempre. Vengono un momento, ho visto anche la poppa, vengono un momento, la prua, la prua è quasi una testa balla di poppa che si fa. Sì, sì, beh, anche in cui andiamo la rora di prua, lo tagliamo l'algua, la pernaccia, in cui andiamo andiamo l'impennaccia, la spia, però noi altri scriviamo la pernaccia. E ci sono altri particolari che sono ad esempio la monaghetta. La monaghetta? Sì, sì. Quando ci saliva la cima, l'utraval, l'utravanza, sa dire. Ah, ecco, l'utravanza sa chi si trova neanche avanti. Sì, lo bracciolo, il capo di banda, questo è il capo di banda. La scala, la scala, non c'è lo scalmo. Questo è lo scalmotto. Achesius è compresa. La falchetta. La falchetta che si trova sotto nel primo boldo. L'umbrinale, sì. L'umbrinale. Sì, anche sull'umbrinale si sa scarregare l'algua. Sì, che si arrentava. L'algua si arrentava a barca e si serviva proprio per feccare l'algua. La femminella e la guiol. Allora, mi diamo un attimo. La femminella e la guiol che si arriva a Rapoppa, anche se si apposa al timore. Sì. Allora, achesia sadiu? Achesia sadiu femminella. Al contrario. Non c'è, il timore va la... No, achesia, scusate. Achesia la guiol. Si è sbagliato io. La guiol. Achesia femminella. Achesia femminella, al contrario. Achesia femminella, non c'è la guiol, al contrario. Al contrario, è compreso, è compreso. Non ti ammettete assai. Ti sei stato un po' emozionato. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti, mi dì. Achesia, a Balcheta. Achesia Balcheta. Achesia è la matecia tecnica di Achesia. Achesia è sempre spagnoletta, Avera, Malupeno, Luzabra, tutto il particolare. Achesia è anche achesia. Sì. E achesia la stascrivanti di poca ara? Sì, sì, sì. Un po' credo alla volta. Un po' credo alla volta. Generalmente si è in siglugara per fare una balcheta scia? Eh, assai con la grandaria. Achesia, ad esempio, anche un mese, un mese amici. Achesia la grandaria, il lavoro che vuole la monta, Andrea, la Fesco Steglias, tutto il particolare, la Chiglia. Per questo è scommesso sempre la Chiglia. Da spesso a fare la ordinata, la madera. E anche io voglio che voglio lavorare tutti quanti di modo che lo facciamo questa posa da monta perfetta, senza ninguna contrazione, considerare se... E donca si vuole un po' che detenze per sviluppare lo traballo, per sviluppare questo tipo di traballo. E es una bella passione, passione per fare achesiascosas, la verità. E appunto, quando si trova achesia, achesia gana, achesia, e tassantesias gratificati quando acaba achesi un traballo a Civella. Sì, sì, sì. Fai cose achesi, sono tambè lo simbolo della ghe. Achesi sono le barcate, le garese, che stanno sparinti, per cose. la barcate del garese, sono sostituiti della barcate del resino. La passione, quindi, è una cosa bella perché achesi a barca, per cose, è un simbolo della ghe. ma, inizio, achesi a me, un pescareccio, da anni cinquanta, adesso arriva un modellino, essendo un modellino, arriva in effetti l'anima di caldo, tutta smussata, e poi rivestita ma lo facciamo, e poi doppio facciamo da monti, lo prima facciamo, va tutto l'avegato, e poi l'altro busto, si sapeva, lo facciamo, che vanno posato da monti, e smussata, tutti quanti. In questo caso si preseva tutto l'armare, anche il bericello, anche la cubetta di cabina, anche la cabinetta, non si sapeva di usare la manovra, la bica, ciò che è. In questo caso si preseva il roll bar, anche il roll bar, anche il roll bar, anche il rullo, al posto di roll bar si preseva anche il biggo. In quel momento hai un'altra lingua, lo roll bar cos'è? Rolbares è quella struttura che tiene Andrea il pescareccio, il classico pescareccio che ti tirano l'arriera per posare da monte la cubetta e tutto il pesce. Noi altri ti diranno da monte che c'è? Anche io ho potuto anche posare il vericello di pronti se la moglie l'ancora da. Si 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 si. I vanno usati la cubetta, anche io, avanti. Adesso ci sono tutti pitturati, cosa tradizionale di un vero pescareccio. Si, è compreso, è compreso. E la cubetta sia un'appendita, lo poso in mantiera. E la cubetta sono statunutiche. Ma penso che sia sempre la stessa cosa, però la fin vera è una cubetta. Allora la cubetta è sempre la spagnola. E si mi piace. La cubetta sopra un porta lume. anche ad esempio il lume lo posiamo anche e diventa un portale lume Vino un momento, Vino un momento, Vino un momento Allora, non è che è proprio se potete posare una lume da monto o una stiarica Sì, sì, sì A questo è spagnolo, sapevo se ti fai la lancetta La lancetta è l'aspetto del popo a quadra Non è spagnolo, però è la prua come cresce Sì, sapevo che c'è la popo a quadra, partita a scie sempre È una bella, mi rana a scie, è veramente bella Partita a patta Ah, l'unone, 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 che nome è? Ambra, ha creato Ambra, che sa? Ambra, Alguero Ah, ecco La targhetta dell'Alguero che sa anche Andrera Ambra è proprio rustica, anche Vabbè Tami dell'altra parte Vabbè, i Akesha, se a Kesha spattita sono sempre ecco Allora, un giorno abbiamo visto, una che è s'accavara E a Kesha la sta s'accavante Sì, a Kesha si deve finire, la ticcquante, se qua s'accavara, Kesha e la matecia tecnica di Kesha e la spessa può fare la fantasia ma la propria mesculta mesculta, mesculta, del regalo tutti i quattro un sacco di piacimento dei cuorosi sempre con la cubetta rustica e sono modelli di pesca Kesha è un modello di pesca ma la pennacia tagliata cuta si e sveglia anche se c'è un altro tipo di banchetta anche se c'è sempre una anche se sgreggia ancora anche se c'è una fase di lavorazione si sgreggia faccio di una al fondo anche delle vigali ad espressa la vanizia da monte insomma tutta roba manura che vuole sempre la pazienza al fello invece che anche gli attaccetti tutti i partiti e i partiti di cosa sono di sabattismo no anche se sono dei modellini dei modellismo di quelle taccetta partita che sempre hanno il fello facciamo tutti quanti e anche se si vengono ricavate di riciclare riciclare che tu trovi a marina o a no anche a marina perché se mi avevano un'idea di cosa fare da muti io ho fatto tutti quanti e compri quindi Donkas la maggior parte dei materiali riciclati si si la maggior parte dei materiali riciclati ha chiesto una buona cosa non lo spiegare stai per cosa tu lo fasi per passare non lo fasi per campare no non ha passare che ha fatto e allora ti diventisci stai per da monte di che c'ha scosso sono cose belle e a me magari portarlo avanti con questo ascolta ma ti diventisci anche aggiunire qualcosa che si sbagliare grande sono anche partite per portare un troppo di candela che potesse riuscire però ti diventisci anche di applicare e aggiunire qualche pezzo elettrico che ha batteria si ad esempio ho fatto una di 2 metri che posava il polt e sacchierava l'argento era una bica che tipo un peschiereccio come che da io anche la radio comandare camminava pascava insomma anche la bica ha fatto un spettacolo al polt che avevamo un monte di gente ascolta ma non si gara l'u fette des franceses o no come l'u fette des franceses no lui va beh che c'è una peschiereccio che aveva fette sempre per passione tirata da monte 4 anni si 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 prima motorizzazione che teneva da monte era a scoppio però a che motor si sacchiava la gente da e cosa quanti partiva a moto trattata faceva una mitragliatrice un cannù pace no ma ti dico ma che io mi hanno detto dei fetti che non si era giornalista francese come è stato ah questo hanno fatto un video francese hanno fatto un video mentre girava il polto di quante l'ave usate ma pensava internet in Francia non c'è il video però sveglia quando c'è la navigazione c'è una città che è luminare che cammina la niente ecco vi sono stati belli a 30 a 30 video che ci hanno fatto ora passiamo un'altra parte una spagnoletta che è praticamente a cabara praticamente ha aggiunti a Kishas di Kishas aveva affettato mio babbo quando era partito la che ha affettato quando stavo scommerzando a imparare a Kishas barchetta c'è una lancetta bella ma proprio a quadra sempre sempre barchetta di Kishas e a Kishas una chiaffetta una quarta ma pare di Kishas e Kishas già pronta è sempre spagnoletta a Kishas Kishas tutta armata te già la svera il fioc la randa il pendone le labbra tutta pitturale è già pronta Kishas ecco anche c'è un traballo che si deve fare famiglia no si ha cominciato il par c'è Antonino lo tronchetto e tu hai accavato e sei soddisfatti eh a me già sai Kishas sono raccolti di famiglia sono sempre mes bella per cosa è simbolo della gira sempre e a il agrarava fare Kishas 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 io dico arte perché è un arte Kishas è sempre arte allora un'altra cosa un'altra cosita amo a Paolo anima mira tosi quance a un'altra un'altra Grazie a tutti. 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 Ciao, ciao, ciao.